ciao simona ciao cos'hai una crisi affettiva no anzi sono super carica per fare cosa sto dimagrendo col digiuno intermittente come alterno un biscotto alla vaniglia e biscotto al cacao a intermittenza ciao amici parlo spesso di dimagrimento naturale e infatti ci sono molti modi per perdere peso un modo utile per dimagrire che sta diventando anche molto trendy e sano è il digiuno intermittente ma allora intermittente ma cosa significa significa che non è un digiuno continuativo ma un modo di mangiare che prevede digiuni regolari a breve termine il digiuno a breve periodo contribuisce a introdurre meno calorie e contribuisce a ottimizzare alcuni ormoni legati al controllo del peso ma non è pericoloso e tu non eri contraria alle diete e poi questa non è una dieta ma è una strategia che ognuno può adattare alla sua situazione personale volete sapere come funziona allora mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video ci sono diversi modi per fare digiuno a intermittenza e i più popolari sono tre il metodo 16 8 16 ore di digiuno e 8 in cui si può mangiare per cui si concentrano i tempi e si salta o la colazione o la cena si può mangiare all'interno di una finestra temporale di 8 ore per esempio dalle 12 alle 20 altro modo eat stop it in inglese mangia digiuna mangia è un digiuno di 24 ore una o due volte la settimana per esempio si salta la cena oggi e non si mangia fino alla cena del giorno successivo la dieta 5 per 2 vuol dire 500 calorie per due giorni alla settimana e il resto della settimana si mangia normalmente ma come si mangia normalmente per dimagrire con il digiuno intermittente l'importante non compensare mangiando di più quando non si digiuna funziona perché si riduce l'apporto calorico settimanale e questo aiuta a perdere peso soprattutto il grasso della pancia il modo in cui si dimagrisce è interessante e ce lo spiega la scienza quando digiuniamo il corpo attiva dei meccanismi per ottenere l'energia dalle riserve di grasso immagazzinate ma non solo il digiuno produce cambiamenti nelle attività di sistema nervoso sistema ormonale e metabolismo ecco cosa avviene con il digiuno intermittente l'insulina che aumenta quando mangiamo diminuisce drasticamente quando digiuniamo e quando l'insulina va giù il potere brucia grassi va su l'ormone della crescita durante il digiuno può aumentare fino a 5 volte e questo facilita la crescita della massa magra e la perdita del grasso si muove la noradrenalina un ormone che trasforma il grasso in acidi grassi liberi e questi possono essere bruciati per ottenere energia due studi americani hanno scoperto che il digiuno fino a 48 ore aumenta il metabolismo dal 3 al 14 per cento ma attenzione digiunare più a lungo può rallentare e spegnere il metabolismo con la classica dieta a restrizione calorica uno dei peggiori effetti collaterali è che perdiamo anche la massa magra il muscolo oltre al grasso invece con il digiuno intermittente è stato riscontrato che si perde solo il grasso e non i muscoli a questo punto se si vuole perdere peso con il digiuno intermittente ci sono quattro cose da tenere bene a mente 1 qualità del cibo gli alimenti che mangiamo diventano ancora più importanti quindi preferire alimenti nutrienti ma con combinazioni digeribili 2 regolarità importantissimo mangiare normalmente durante i periodi di non digiuno senza andare a compensare le calorie evitate durante il digiuno e tutto diventerà più facile se anche gli orari sono regolari 3 costanza come per ogni altro metodo di perdita di peso è necessario praticare il digiuno a intermittenza per un periodo piuttosto prolungato nel tempo 4 pazienza ognuno ha i suoi tempi per dimagrire e il risultato va misurato nel lungo periodo e in questo modo la perdita di peso sarà anche più duratura insomma il digiuno intermittente accelera il dimagrimento senza troppi rischi ah ma quindi è come avere tutti i benefici della dieta senza il rischio di riprendere tutti i puli persi giusto vedo che hai capito modestamente sono un'esperta di dieta con tutte quelle che ho sgarrato e voi amici ma cosa pensate di questo digiuno intermittente scrivetemelo nei commenti sono curiosa in descrizione vi lascio il link a tutti i miei ebook per dimagrire c'è una bella collection mirata per tutte le zone anche le più difficili e in descrizione sempre il link alla playlist per dimagrire in modo naturale senza dieta e ci sono anche gli esercizi di serena bravissima ma come fate a seguire tutto è facile basta iscriversi al canale con un click così e attivate la campanella delle notifiche per essere avvisati ogni volta che esce un nuovo video e noi ci vediamo al prossimo video nel frattempo ma sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao ciao a intermittenza 48 ore tanti mi piace tanti